Buongiorno, questa mattina la premier Giorgia Meloni incontrerà il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel alle 12.30 a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Europeo è già atterrato in Italia all'aeroporto Fiumicino alle 9.30 di questa mattina con un volo di linea da Bruxelles. Sul tavolo dell'incontro due temi principali, il controllo dell'Unione Europea sulla gestione dei flussi migratori e il trovare una contromossa efficace al piano anti-inflazione degli Stati Uniti. La premier si prepara a discutere entrambi i dossier in vista del Consiglio Europeo straordinario che si terrà il 9 e 10 febbraio e che sarà preceduto da diversi incontri e farà da più vista proprio questo incontro. L'obiettivo dell'Italia è quello di rafforzare le frontiere e quello ovviamente di contenere i flussi migratori sui paesi di primo impatto. Proprio oggi si terranno gli accertamenti sulla Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, accusata di aver violato il decreto del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e che prevede che non vengano superati i salvataggi in mare dei migranti e la Geo Barents sembrerebbe aver violato tale decreto. Ed è per questo che questa mattina gli agenti di polizia saliranno sulla Geo Barents per accertarsi che se ci sia stata una violazione o meno. Nel caso la risposta fosse un sì scatteranno le sanzioni da 10 a 50 mila euro per il comandante e un fermo di due mesi per dell'attività della nave. Più complicata invece la questione sugli aiuti di Stato e sul piano anti-inflazione degli Stati Uniti alla luce dei potenziali atti discriminatori verso le imprese europee provocate dai sussidi a quelle americane. Centrale sarà la risposta dell'Italia sugli aiuti di Stato e sul piano Inflation Reduction Act dell'amministrazione Biden. Dal fatto del giorno di oggi è tutto ci vediamo alla prossima edizione.